Con il dito della benedizione del legname del carro trionfale da parte del rettore parroco del santuario Monsignor Salvo Priola si sono aperti i festeggiamenti in onore della Madonna della Milicia che porteranno centinaia di fedeli al santuario diocesano di Altavilla anche a piedi. I festeggiamenti che quest'anno tagliano il traguardo della 397esima edizione si svolgeranno in forma diversa a causa dell'emergenza sanitaria. Non si terranno infatti la processione religiosa e quelle della salita e discesa del carro trionfale una novità invece rappresentata dalla volata degli angeli che su una idea del presidente del comitato dei festeggiamenti Giovanni Giovenco avrà la variante delle volate senza corde come pure la modalità di esecuzione. Si svolgeranno due canti al giorno il 6, 7 e 8 settembre presso il santuario sotto il quadro originale alle ore 12 e lo stesso carro allestito davanti al santuario alle 20 negli stessi giorni. Il comitato con l'occasione stende a tutti i saluti dei concittadini emigrati nel mondo che grazie alla tecnologia informatica si sente vicina e partecipe ai festeggiamenti manifestando commozione e gratitudine. Tra i momenti religiosi più significativi l'ottavario di preghiera con la recita del rosario e la celebrazione della Santa Messa preseduta dal viceparroco Don Emilio Cannata. Domenica 6 settembre alle 19 la Santa Messa in santuario con il rinnovo delle promesse matrimoniali e l'affidamento a Maria delle famiglie e la benedizione ai fidanzati. Lunedì 7 settembre i primi vespri con i canonici della cattedrale preseduti dal ciantro Monsignor Salvatore Lomonte e l'8 settembre la celebrazione solenne alle ore 11 alla presenza delle autorità civili e militari. Nei giorni 6, 7, 8 settembre il santuario resterà aperto dalle ore 6 e 30 alle 13 e dalle 15 e 30 alle 24. Durante il mese di settembre ogni giorno saranno disponibili i presbiteri per la celebrazione del sacramento della riconciliazione.